Anche quest'anno Lega Ambiente fa il punto sulla sicurezza degli edifici scolastici. Stando ai dati del dossier, in Campania, regione con il 90,5% degli edifici che si trovano in area a rischio sismico, solo due istituti su dieci sono stati costruiti secondo criteri antisismici e solo nel 28,5% delle strutture è stata eseguita la verifica di vulnerabilità sismica. Un patrimonio edilizio scolastico storico dunque, come oramai storici, sono i problemi che lo caratterizzano. Il 61,2% degli immobili risulta edificato prima del 1974. Ma quanti anni occorrono per mettere in sicurezza le scuole nelle aree più fragili del paese? Ci vorrebbe in primis un'anagrafe scolastica affidabile. L'anagrafe dell'edilizia scolastica è ancora imprecisa e va completata rapidamente, ha dichiarato la Presidente Nazionale di Lega Ambiente, Rossella Muroni, insieme al finanziamento delle diagnosi statiche ed energetiche di tutti gli edifici. L'obiettivo è di avere entro il 2020 il fascicolo di fabbricato per ogni scuola d'Italia. In campagna la fotografia è riguardato complessivamente 474 edifici frequentati da oltre 108.000 studenti tra Napoli, Salerno e Avellino. Sicurezza e sostenibilità, riferisce Francesca Ferro della Segreteria Regionale Lega Ambiente, sono le parole chiave per progettare il futuro del cantiere scuola. L'impegno deve essere quello di garantire il diritto ad avere scuole di qualità a tutte le ragazze e i ragazzi. Occorre quindi fissare obiettivi ambiziosi anche nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente invece di continuare con interventi parziali di miglioramento.